La fauna varietale è costituita da quegli animali che conducono la loro esistenza prevalentemente lungo le pareti o sulla volta della grotta. Appartengono alla fauna varietale insetti come i tricotteri, levitotteri, iortotteri, eccetera e arascidi come ragni e oplionidi. Un elemento molto conosciuto della fauna varietale è la dolicopoda. La dolicopoda è un insetto appartenente all'ordine degli ortotteri come grilli e cavallette per intenderci che però a differenza dei suoi parenti epigei è priva di ali. Le femmine sono distinguibili dai maschi per la presenza di un'opositore a sciapola. Le strutture sensoriali delle dolicopode sono molto sviluppate rendendo così possibile la sopravvivenza in un ambiente relativamente povero e privo di luce. La conseguenza è una maggiore disponibilità energetica nella catena alimentare della grotta e ciò si traduce in un maggior numero di specie potenzialmente presenti. Grazie. 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 Grazie.